Benvenuti a numeri da cuoco e benvenuti ad un'altra puntata dedicata ai nostri amati infusi questa volta realizzeremo una ganache di cioccolato bianco con un aroma raffinato quindi preparazione dolce, prendete nota Ingredienti per la ganache bianca arancio 300 g di cioccolato bianco 180 ml di crema di latte 30 g di burro 25 g di miele d'acacia 1 arancia 2 bustine di tisana al biancospino 2 stecche di cannella 2 chiodi di garofano Versate in un pentolino la crema di latte Con un pelapatate ricavate la scorza dell'arancia quindi tritatela finemente a coltello e aggiungetela alla crema di latte Completate con la cannella 2 chiodi di garofano Ed il miele Accendete regolando la fiamma a fuoco moderato E non appena si alzerà il bollore spegnete subito A questo punto svuotate il contenuto di due bustine di tisana al biancospino all'interno della crema di latte e lasciate coperto in infusione per 10 minuti Terminato il tempo di riposo filtrate l'infuso schiacciando bene delicatamente per estrarre tutto l'aroma Versate nuovamente l'infuso nel pentolino e fate appena prendere il bollore Quindi spegnete e versate all'interno il cioccolato bianco e girando velocemente scioglietelo del tutto Per aiutare il raffreddamento versate il tutto in un recipiente di vetro Unite il burro in pezzi e continuate a girare con una frusta per finire di freddare la ganache Potete riporre il tutto per qualche ora in frigorifero per far assodare e ottenere una consistenza cremosa Posso assicurarvi che questa ganache ha un gusto veramente delizioso Ed ora che dolce ci componiamo? Beh, io un'idea ce l'avrei ma non ora La prossima puntata vi svelo tutto Grazie a tutti Grazie a tutti